Il CFP da 40 anni si occupa di movimentazione merci nei piazzali, di logistica di magazzino, di trasporti, spedizione e pulizie e presta il suo servizio nel territorio emiliano-romagnolo in una moltitudine di settori industriali che vanno dal settore dell'automotive al settore ceramico, dal farmaceutico barra biomedicale al settore delle carni. Lavoriamo con Toyota da sei anni e noi operando in diversi settori merceologici abbiamo scelto Toyota come partner perché è l'azienda che è in grado di mettersi al nostro fianco e cercare le migliori soluzioni per la nostra clientela. Abbiamo scelto 27 tonnei HST, 30 quintali, diesel, idrostatico che insieme all'SS unisce in sé tecnologia, affidabilità e sicurezza. Un concentrato di tecnologia molto avanzato, riteniamo molto avanzato. Abbiamo scelto questo carrello perché secondo noi richiude in sé tutto quello che noi vogliamo, affidabilità e velocità. Il tonnei HST è una macchina unica, è un carrello idrostatico comprensivo del SAS. Il SAS è uno strumento straordinario che ci permette di garantire al carellista sicurezza e produttività, che è esattamente quello che chiedono chi guida carrelli elevatori in ambienti così complicati. Crediamo che un'azienda importante come Toyota, quindi con una multinazionale, riesca a entrare nelle peculiarità delle esigenze che un'azienda come la nostra incontra nell'esplettamento del suo lavoro.